Questo forse mi costerà il matrimonio. Spero che sia una bomba. Stai iniettando sul furo colloidale? Sì, viene assorbito dalla milza. A meno che non ce l'abbia. In tal caso verrà assorbito dal fegato e lo friggerà. Lo vuoi uccidere? Pensi che l'abbia aperto e non gli abbia tolto la milza? Tutti gli organi interni sono più o meno simili. Rossi e mollicini. Oh mio Dio. Milza e accessorie. Ok, ammetto che è sorprendente. Dodici anni, otto piani e un cassonetto fa. Si è rotto tre costole spappolandosi la milza, dalla quale sono schizzati dei pezzetti che una volta in circolo sono finiti altrove. Allora è proprio TTP. Solo non ho asportato tutte le sue milze. Sedici splenectomie. Con un record simile si vince quasi un set di coltelli. 407 in sala 2. 407 in sala 2. Tanto ti raggiungo. Scusami per il naso e per l'occhio e anche per il sopracciglio. Devo essermelo meritato. Beh, no. Se lo pensassi non sarei qui a scusarmi. Ti è scappato il pugno? Mi davano tutti il tormento. Mi chiedevano come stavo. Così mi hai rotto il naso per toglierti gli altri di torno? Più o meno. Facendoli preoccupare ancora di più. Può darsi. Ma almeno non mi parlano più di quello. Scusi accettate. Bene.